Sì, avevo ancora altra energia, per questo comunque l'ultimo tratto ho cercato di accelerare ancora un po'. Sono molto soddisfatta perché in vista all'Olimpiadi, insomma, è un'ottima iniezione di fiducia. Beh, sicuramente, che ne so, non mi voglio sbilanciare. Sì, è stato molto soddisfatto, la prima rata prima rata, quindi è buona che tutto è iniziato a come stagione. È un'ottima iniziare a fare la rata, 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 la rata. La rata, la rata, la rata, la rata, la rata per la rata, la rata, la rata, la rata, la rata, la rata. Quindi è bella, iniziare a cercare leượng delle, ma, quindi, in realtà, sono un po' di rata, inizia a cercare di rata. I was very nervous and excited to swim here so yeah every every time I'm nervous and because here was so good girls I think most of them swimming in Rio so I was really excited because they are very fast and it's like a test event before the before Rio so yeah I want to swim with the first group and I think I was in the first group the whole time so yeah it was good I hope I will swim there like like this race I think it was a little bit similar because it was very wavy I think in Rio it would be a little bit colder but I think it was a good test event for everybody you 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 you